Seat Alhambra strizzando l'occhio alle famiglie e agli appassionati di sport invernali che desiderano muoversi con sicurezza e facilità anche in condizioni di bassa aderenza Vera e propria alternativa all'insegna dell'understatement ai più costosi e spesso ingombranti Maxi SUV Alhambra 4x4 risulta inarrivabile per spazio e comfort Sul nostro mercato è prevista una sola versione, Style motorizzata con il rotondo 2 litri TDI da 140 CV abbinato al cambio manuale a 6 marce offerta al prezzo di 34.200 euro Al volante se ne apprezza la guida automobilistica e il sistema di trazione aggiunto centrale Aldex che trasferisce la trazione sull'asse posteriore solo in caso di necessità fino a un rapporto 50-50 e non influisce negativamente su prestazioni e consumi Sulle tormentate strade del resegone spagnolo la catena montuosa di Montserrat alle spalle di Barcellona la Alhambra ci ha convinto dimostrando un handling impeccabile in tutte le situazioni di guida con il plus di sicurezza della trazione 4x4 Sustain不要 per colpare ciò che avrebbe sfondo 0해� liberdi le price stupid e everybody cal ci avviciniamo a Grazie per la visione!